notizie oggi è una produzione di canale italia il programma è offerto da iscriviti al canale Buonasera signore, buonasera signori, grazie per chi segue questa trasmissione e direi che è una salata particolare perché parleremo, come vi ho detto in questi giorni, di un docufilm tratto ovviamente da un'inchiesta di Paolo Cucchiarelli, non è un caso Moro. Con chi ne parleremo? Proprio con il regista e attore che è qui con me questa sera e lo ringrazio molto, Tommaso Menniti, qua di uvato ovviamente dalla nostra saggista Ornella Mariani, scrittrice, e poi vi farò vedere anche la copertina del libro che uscirà domani, dice che sarà una favola, io ci credo perché conosco bene quella che è la qualità di questo personaggio. Poi con l'avvocato, scrittore e nonché giornalista anche l'amico Francesco Carraro. Grazie Vito per l'invito, una buona serata a tutti. E poi, ultimo ma non ultimo, il presidente dei giuristi per la vita, l'avvocato Gianfranco Amato. Grazie per l'invito. E dovremmo avere in collegamento, non so se c'è già, proviamoci. Paolo Cucchiarelli c'è? Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Fino ad oggi è una palla come tutte le storie che ci raccontano. Ho sbaglio? Può essere, sì. È molto probabile. Lui può essere. Si mantiene sempre sul chi va là, ma poi lo diremo con Ornella. Sono 70 anni di bugie. Ma Moro comunque è morto, scusa, 45 anni fa. Sì, ma noi avevamo cominciato a subire prima l'onta delle loro menzogne. Allora, allora, incomincierei quindi con una copertina che ci ha mandato l'amico Massimo Bolla e che ci racconta così la storia. In breve, in sintesi. Ascoltatelo. Prego. E fui proposta all'inizio per questo incarico. Successivamente, poiché io non ero mai stata d'accordo con l'uccisione dell'onorevole Moro ed ebbe una reazione non esattamente di acquiescenza a questa indicazione. Morucci, dopo un breve consulto con Moretti, venne a dirmi che ero esonerata dall'incarico. Dopo quasi 45 anni, arriva l'anniversario di una delle pagine più nere della storia della Repubblica Italiana. Le parole sono sempre le stesse. Verità, mistero, rapimento, menzogna. Chi è stato, perché, ma soprattutto, perché chi poteva non ha fatto nulla. Credo di non aver compreso cosa vi ripromettiate dal mio interrogatore. Dalla sua prigionia, vuol dire. Che per la precisione è uno degli obiettivi della campagna di primavera. Sono previste almeno una quarantina di azioni. Ecco, non interpello adesso Minniti, ma interpello la Mariani su questa copertina. In breve, in sindesi, un menù da testa. Un qualcosa su quello che è stato presentato dal nostro amico. Con la telecamera. Devo dire che, malgrado ci si sia abituati alla menzogna sistematica in un paese nel quale è stata coniata la formula della strage di Stato, la vicenda Moro non ha mai smesso di turbarmi. Perché i retroscena devono ancora essere scandagliati e chiamano in causa personaggi che sono anche ed ancora in circolazione. Carraro, su questa, veloci. Io posso dire che è una vicenda che ha colpito tutti gli italiani, ha colpito me quando ero bambino. Io mi ricordo esattamente, e avevo otto anni, siamo nel 1978, quindi facevo la seconda o la terza inventare. Mi ricordo il giorno in cui è stato rapito, mi ricordo il giorno in cui hanno ritrovato il corpo. È un caso emblematico e un crocevia assoluto dei destini della Repubblica Italiana. Lì è successo qualcosa e, secondo me, meglio detto, lì è stato fatto succedere qualcosa da qualcuno che si trovava dietro alle quinte e che non era esattamente, diciamo così, individuabile nei personaggi che noi abbiamo conosciuto come gli autori, esecutori materiali del fatto. Avvocato Amato. Vittorio, confesso di non essere mai stato un grande estimatore dei docufilm, ma anche perché ci sono pochi fatti bene. E devo dire che questo qui è uno, si può tranquillamente annoverare fra quei pochi, anzi direi è un'opera d'arte. Quello di cui andremo a parlare. Ma io mi riferivo alla copertina. Su questo, guarda, per quanto riguarda la copertina, a me ha colpito una cosa. Io sono stato innamorato, direi, a colpo di fotogramma, il primo fotogramma. Cioè la frase di una delle donne che io ritengo essere la più intelligente del secolo scorso, forse la più intelligente, Anna Arendt. Cioè le bugie, le menzogne della politica moderna sanno occuparsi efficacemente di segreti che tutti conoscono. ed è quella frase tratta da un saggio che si intitola Verità e politica. Quel saggio, insieme a un altro saggio di Anna Arendt, le origini del totalitarismo, andrebbe letto da tutti, soprattutto a casa e studiato a scuola. Il rapporto tra verità e politica, basato sulla menzogna, che è quel saggio di Anna Arendt, ha la spiegazione scientifica di tutto il docufilm. E la copertina lo dice bene. Il problema è il rapporto tra verità e politica. Perfetto. Infatti, questo docufilm di cui parleremo questa sera non è un caso, Moro, di Tommaso Menniti, tratto del libro inchiesta di Paolo Cucchiarelli con la musica di Johannes Bickler. Il film autoprodotto è uscito nel 2021 e oggi comincia a vedersi così in piccole sale cinematografiche. È un film clandestino, possiamo definirlo così, una storia inaudita e finalmente, dico finalmente, la verità sul delitto Moro. Per chi volesse intervenire e raccontare la sua di quel che ricorda di quel tempo, 393-3344-567. Intanto, guardiamoci questo trailer. Quella che stiamo raccontando è tutta un'altra storia. L'ex presidente del Consiglio Aldo Moro fu inciso perché si opponeva alle politiche pianificate dal Bilderberg per il suo paese. O lei interrompe la politica intrapresa in Italia o pagherà un prezzo personale molto alto. L'Italia e l'Europa di oggi non sono ridotte così come effetto collaterale della morte di Aldo Moro, ma la morte di Moro serviva specificatamente a questo scopo. E' questo l'obiettivo sul quale le Brigate Rosse si muovono al momento in cui avviene il rapimento. Questa forza, dove la vogliamo collocare? Oltreoceano? Beh, l'oceano c'è di destra e c'è di sinistra. Ma sta oltreoceano? Sta oltreoceano. Le BR hanno svolto un ruolo secondario di mascheratura dell'operazione. Il ruolo principale è stato svolto da un commando venuto dall'estero e coperto dai servizi segreti. Il presidente della DC sapeva dove era detenuto, ma anche tanti altri sapevano. Vi è un elemento indicibile la scoperta del prigioniero e l'impossibilità di salvarlo. Giovanni, il figlio di Aldo Moro, mi confermò di aver saputo direttamente da Nicola Lettieri, il sottosegretario che seguiva le indagini, che il padre e i suoi carcerieri erano stati individuati a palo laziale in una villa sul litorale a nord della capitale. Entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria, cheppure non si può ignorare, la ragione di Stato, soprattutto questa ragione di Stato. Nel caso mio significa che io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente graduato, che sono in questo Stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. C'è il cerchio di chi lo tiene rapito e c'è il cerchio di chi rappresenta una sorta di cupola strategica. La frase che ricordo distintamente è Moro vivo non serve più a nessuno. Cossiga piangeva mentre Andreotti pronunciava questa frase. Noi sapevamo quello che io prima chiamavo la cupola strategica di essere un paese la cui struttura dei servizi era una struttura sotto sorveglianza, sotto tutela. La sua struttura Someniti, siete riusciti in un unico slancio a raggiungere una verità che si rincorre da 45 anni. Con quali forze e convincimenti vi siete spinti così in avanti e qual è stata la molla? Dunque, Vito, io arrivo sempre più a pensare che il fatto di esserci potuti spingere così avanti per lo meno per quanto mi riguarda sia di peso dal fatto che io in realtà non sono un regista non sono un uomo di cinema non ho rapporti, legami con il mondo delle case cinematografiche delle produzioni delle distribuzioni e quindi diciamo ingenuamente da parvenu mi sono buttato in una storia di cui avevo percepito varie cose. in primis la profondità nel 2018 diciamo che c'erano i 40 anni dalla morte di Aldo Moro quindi si è sentito di tutto mi sono affondato a leggere a leggere di tutto la saggistica soprattutto e percepivo nettamente che come se ogni autore avesse portato un tassello o qualche tassello ma il quadro non era assolutamente visibile e completo per cui diciamo gratta gratta sotto le varie manifestazioni le corone dall'oro pelose apposte dai vari uomini o mini di stato gratta gratta era chiaro che sotto quella vernice si nascondeva un piccolo segreto secondo me che io ho cercato di raccontare ovvero la morte cerebrale della Repubblica Italiana esattamente il 9 maggio 1978 cioè la morte del padre della patria la morte del centro di un certo tipo di politica di un certo progetto politico che se fosse arrivato a compimento probabilmente come ci dice la figlia Maria Fida Moro non ci troveremmo in questa Italia ed in questa Europa poi c'è stata la scintilla che è stata una telefonata con Maria Fida Moro nel mio peregrinare ricercare affondare la mente su questo tema che avevo capito essere tema centrale ma non per fare uno schiribizzo storiografico che probabilmente non interesserebbe a noi non interesserebbe ai nostri figli non interesserebbe neanche a me che all'epoca ero piccolino era un bambino perché è percettibile e questo lo vedono anche lo capiscono anche i ragazzi quando lo presentiamo nelle scuole che è una storia che riguarda il destino delle ultime generazioni delle generazioni che arriveranno per cui Maria Fida Moro mi dice al telefono molto chiaramente guardi se lei vuol sapere cosa è successo in quei 55 giorni deve leggere assolutamente i due libri inchiesta di Paolo Cucchiarelli che era io avevo letto tutto non avevo letto quelli e quindi mi immergo nella lettura chiamo Paolo ci presentiamo con poche credenziali Paolo mi dice in qualche modo sono stato messo da parte dopo quell'inchiesta io dico Paolo io ho solo la necessità da uomo di teatro di aderire a questa storia non mi chiede nulla della distribuzione e quindi io capisco che è la persona con cui lavorare ci troviamo sotto la lapide del monumento di Moro in via Caetani e in breve decidiamo di affondare i denti su questa storia questa è stata la scintilla dopodiché se tu mi chiedessi il movente che è la prima cosa che mi ha chiesto Paolo perché lo vuoi fare io con gli anni ti posso dire c'è una sorta di anelito imperscrutabile che è l'adesione alla verità come valore assoluto fame fame di verità fame fame però capisci Ornella in questo in questo tempo dove ovviamente siamo abituati al mercimonio su tutto aderire alla verità e considerare questo come valore assoluto fondante metafisico è un rischio non solo ma è qualcosa per cui non vedrei altre cose per cui possa valer la pena fare questo e venire qui e anche esporsi un pochino parlandone no non ne parliamo perché da che mondo in mondo la nostra trasmissione è fatta per andare in cerca di verità perché noi non amiamo pettegolezzi non sovrapponiamo mai i pensieri l'uno dell'altro ciascuno non è una bagarre non è un una sciacquola tua come si suol dire perché urlano rigano pallano e poi non si capisce nulla di quello che si racconta noi vogliamo raccontare le cose come stanno e quindi è una fortuna quella Sabrina che mi ha detto di contattarti grazie Sabrina se sei all'ascolto grazie per avermi concesso di comunicare con questo signore che per me è questo signore nessuno comunque sia chi è che nessuno per me sei un signor verità quindi questo mi interessa avete da dire qualcosa 30 secondi a testi perché se no non ce la facciamo presentare tutto prego guarda un'altra cosa che mi ha colpito subito dopo il fotogramma di Anna Arendt è stata l'intervista a quei ragazzi del liceo di Bari non tanto per il fatto che non sapessero non conoscessero ma mi ha fatto venire in mente una cosa la riforma scolastica in Spagna nella Spagna del premier Sanchez è una riforma Vito che prevede non soltanto l'abolizione della filosofia materia che fa ragionare perché per il potere i ragazzi non devono ragionare ma la storia la storia viene eliminata non proprio to cure ma fanno questa riforma attenti bene cioè non ci sarà più il racconto cronologico dei fatti molti eventi importanti come la rivoluzione francese o la conquista dell'America non si raccontano più ma ci saranno delle aree tematiche emergenza climatica uguaglianza di genere e dentro queste aree si racconteranno dei fatti il problema è che la storia è importante tu che hai una cultura classica e sei un latinista Vito sai che i romani non erano gente non erano grandi intellettuali non erano filosofi ma era gente pratica che riusciva a esprimere concetti con una sintesi incredibile che la loro lingua il latino utilizzava pensate che con due parole esprimevano un concetto io venendo qui mi sono fermato in un'area in autogrill e ho ascoltato due che prendevano il caffè e nel parlare di cose banali uno dei due ha tirato fuori l'espressione divide timpera no? le due parole in quest'ottica tanto per restare in tema la storia per i romani era magistra vita maestra di vita questa è una definizione di Cicerone che non soltanto la diceva questo ma diceva anche che era testis temporum cioè testimone dei tempi lux veritatis luce della verità vita memorie elemento che mantiene in vita quello che è accaduto identità e testis vetustatis cioè narratrice delle cose accadute tutto questo si attaglia perfettamente al tuo docufilm e possiamo dire che il docufilm di Minniti è un documento storico nel senso ciceroniano del termine fantastico cosa aggiunge l'avvocato Carraro ma a parte il fatto che anch'io come Tommaso giusto sono stato negli anni un appassionato della vicenda Moro ho letto un sacco di saggi di libri da quelli più antichi il mandarino a marcio a uno degli ultimi che è di imposimato i 55 giorni che sconvolsero l'Italia adesso il titolo più o meno è quello ho visto molti documentari ho visto molti film piazza delle cinque lune e altri che sono stati fatti però questo ha una sua qualità peculiare che non è solo artistica in questo gli va dato ovviamente il merito al regista autore e allo scrittore con cui ha collaborato ma è anche il fatto di cercare in maniera più evidente di altre opere di dire come sono andate veramente le cose da questo punto di vista vorrei aggiungere lui ha parlato di Moro come padre della patria ci sono stati due padri della patria e tutti e due sono stati assassinati in Italia il primo è stato Enrico Mattei e il secondo è stato Aldo Moro tutti e due vittime di attentati in tutti e due i casi c'è stata raccontata una storia falsa nel primo caso che era un incidente l'aereo che volava su Buscapè e nel secondo caso che erano state le Brigate Rosse quindi c'è una cosa ancora peggiore di non raccontare la storia come ha detto giustamente l'avvocato e è quello di raccontare una storia falsa noi in Italia ci siamo nutriti e ci stiamo nutriendo da troppo tempo di storie false e è tanto più grave quanto più queste storie false riguardano vicende chiave della nostra vita patria come appunto la vicenda di Moro e di Mattei fantastico Ornella ma poiché egli cita e non a caso come padre della patria Enrico Mattei e due vicende risoltesi con un assassino c'è anche un altro tipo di assassino è la morte civile c'è un terzo padre della patria che si chiamò Giuseppe Pella che pagò il proprio debito per avere difeso dalla tracotanza titina e anglo-americana la sovranità italiana sulla questione Trieste dopodiché da una bugia all'altra bene torno a Menniti dopo sentirò anche Cucchiarelli abbia pazienza Paolo tra poco verrò anche da lei hai detto prima che tu hai girato il film senza curarti delle dinamiche commerciali cosa che sarebbe impossibile per un film in prima serata Rai allora come riuscite a distribuirlo come state veicolando questo messaggio grazie a Vito Monaco soltanto o avete altre possibilità perché tutti devono sapere tutti perché noi abbiamo un ristretto numero di telespettatori io mi auguro che siano milioni perché su Youtube siamo in diretta siamo veramente tantissimi con Youtube siamo in diretta in tutto il mondo e anche Facebook mi pare adesso vero Giuliano Regista non ancora non ancora però Youtube siamo ancora in diretta ora voglio dire come riuscite in breve mi raccomando se non facciamo in tempo riusciamo grazie ai tanti Vito Monaco ai tanti Angeli Custodi io veramente sono stato affiancato da tanti Angeli Custodi il 9 maggio del 21 pubblichiamo il film un po' per disperazione per aver ricevuto così tante porte in faccia perché prima del film non volevamo far conoscere quello che stessimo facendo appena finito il film ci siamo proposti ovviamente a qualche casa di distribuzione produzione finché abbiamo capito con l'ultima proposta vediamo qualcosa mettiamo il film nel cassetto che non era proprio il canale il canale giusto quindi diciamo che per disperazione e anche per sottrarlo a qualsiasi altra evenienza lo abbiamo pubblicato di modo che ce lo avessimo e fosse fermo lì nella storia questo è uno dei modi in cui lo stiamo pubblicando lo stiamo diffondendo che è una USB card uno se la può acquistare la mette nel televisore nel tablet eccetera eccetera quindi come vedi è quasi un porta a porta e come fare a procurarselo il sito è www.noneuncasomoro.com e senza accento www.noneuncasomoro.com si può noleggiare la visione acquistare la visione acquistare la chiavetta eccetera eccetera noi sappiamo io e Paolo siamo partiti da da questo innanzitutto voglio ricordare le opere di Paolo perché io non avrei mai cominciato se non avessi avuto la certezza che il quadro che presentava Paolo era un quadro globale dove tu vedevi il quadro da lontano ma se ti avvicinavi nel mosaico ogni tessera era piena di dettagli due ore di film sono stati mostrati un un per cento dei dettagli che Paolo mette nei due libri che sono morte di un presidente e l'ultima notte di Aldo Moro noi non abbiamo dato voce alla versione ufficiale perché ci sembrava che dopo 45 anni fosse già sufficiente quindi la mia storia è stata portare gli elementi dell'inchiesta di Paolo in una storia cronologicamente filata perché oltre la storia del delitto era necessario avere anche la storia di Moro la storia di un uomo e direi anche del suo martirio dicevamo io e Paolo sappiamo che il mainstream è fatto per disperdere questi atomi di verità il tentativo è proprio quello far sì che la verità in questo nostro film non sia contenuta ma possa dilagare abbiamo cominciato con molto garbo e riservatezza forse affinché non si accorgessero troppo presto che esistiamo ma adesso è il momento che qualcuno in più si accorga che il film c'è e che quindi possa arrivare volendo anche alla sala vedrai vedrai credo che una mano come stiamo dando noi questa sera perché già cominciano a mandare messaggi dopo se avremo tempo leggeremo però voi continuate a scrivere perché io voglio capire esattamente che cosa è accaduto entriamo proprio così nel vivo dalla storia Tommaso voi cambiate completamente il piano del racconto che per 45 minuti ha imperversato nei processi nei giornali nella storia affondate il coltello su una ferita che è ancora sanguinante per l'Italia e mettete in luce alcuni aspetti importanti una dinamica dell'omicidio che chiama in causa i veri mandanti e soprattutto lo Stato che sapeva e aveva però le mani legate e questo mi fa impazzire da dove cominciamo a raccontare dunque vediamo io già vedo Ornella che scuote la testa ma poi magari approfondiamo dunque io comincerei con una premessa quando ci siamo incontrati con Paolo Paolo mi ha subito detto non fare il minestrone cioè la impostazione che tendenzialmente avrei voluto avere sarebbe stata quella di avere vari punti di vista di giornalisti ho capito immediatamente che quel che raccontava Paolo era totalmente incompatibile con altri lavori altri saggi altre impostazioni giornalistiche e quindi siccome il quadro era coerente abbondante di riscontri ho accettato la sfida di immergermi in quella in quella visione in quella ipotesi di lavoro io vorrei dire una cosa un'inchiesta giornalistica come disse un medico anni fa qualche tempo fa non è non è democratica la scienza non è democratica si diceva tempo fa ecco neanche l'inchiesta giornalistica è democratica quindi il politicamente corretto della lottizzazione di dire quello la pensa così però quell'altro dice così che è poi l'impostazione del dibattito per cui sembra che nel mainstream debbano sempre emergere l'opinione più coerente però ce n'è una contraria che quindi mette subito in dissonanza cognitiva il pubblico io volevo proprio evitare qualsiasi forma di dissonanza cognitiva perché già ne siamo abbondantemente pieni e quindi abbiamo affondato il coltello attraverso il lavoro di Paolo perché io sono poi sentiremo un uomo di teatro insomma dopo la pausa diciamo che ci sono tre pilastri dell'inchiesta che questo lavoro mette in luce primo e qui interverrà Paolo perché la questione è molto complessa chi c'era veramente in via Fani come comincia il rapimento Moro bene quali erano le presenze secondo che cosa succede in quei 55 giorni effettivamente noi andiamo in giro con Paolo come fosse Virgilio nell'inferno di Dante in quelle che veramente furono le prigioni totalmente sconosciute per l'Italia in 45 anni noi abbiamo presente l'immagine del cubicolo di via Montalcini e lì finisce terzo qual è la vera dinamica della morte che ovviamente porta con sé il mandante e il movente 30 secondi e che devo andare in pausa pubblicitaria sì chi c'era veramente in via Fani è una bella domanda ma ce n'è una più importante chi ha preso veramente Aldo Moro e dove e dove vabbè ma poi arriveremo chiederemo subito dopo la pausa Paolo Cucchiarelli vengo da lei dopo voi siete con partecipi a questa trasmissione poi intervenite perché adesso io ho bisogno del rapporto commerciale anche se diciamo qualcuno fa il birichino non paga però io ho bisogno di questi signori per poter andare avanti altrimenti non posso fare la pubblicità vuoi dirlo veloce velocissimo sintetico in realtà sì noi abbiamo sentito per 40 più anni questa storia qua ma c'è una verità e sarebbe stato un altro buon titolo secondo me tutti sapevano tutto e questo è quello che mi pare che ha detto è un sottotitolo noi lo utilizziamo come sottotitolo esattamente perché secondo me in realtà in realtà sì stiamo girando attorno torna Anna Arendt poi parliamo di un segreto ma è un segreto che conoscevano tutti poi sappiamo anche chi c'è dietro questo magari lo affrontiamo dopo vi assumete poi io vi assumo le responsabilità ma ce le assumeremo perbacco sapete che io vi do la possibilità sai che ce le siamo sempre assunte esatto pausa non ci è mai successo niente poi vado da Paolo pausa gran moravia il formaggio della filiera sostenibile bontà e convenienza piacere irresistibile formaggio gran moravia da brazzale due secoli di tradizione noi di solo natura crediamo fortemente che il benessere e l'equilibrio del nostro organismo si raggiungano attraverso il potere della natura grazie a un team di esperti abbiamo formulato diversi integratori ognuno con un'azione specifica ogni integratore è frutto della selezione di materie prime di alta qualità e completamente naturali senza processi di sintesi per aiutarti a vivere in modo sano rispettando il tuo corpo e la natura scopri di più su www.solonatura.shop ti aspettiamo progettazione progettazione rinnovamento soluzione questa è InCodes Group offriamo sempre la qualità e il supporto in ogni esigenza con la massima serietà nel settore edile offriamo consulenze per avviare i vostri progetti ci trovi a Montebelluna o consulta il sito www.incodesgroup.com InCodes Group International Construction Design Ehi, sono moltissime le persone che soffrono di gambe gonfie e pesanti noi dell'Istituto Flebologico Italiano analizziamo il passato per migliorare il vostro futuro e vi offriamo qualità e innovazione tecnologica nella diagnosi e nella cura delle malattie venose perché con le vostre gambe potrete fare ancora molta strada Istituto Flebologico Italiano passione ed eccellenza in flebologia Sous-tituto Flebologico Italiano Quando suono mi proietto in una dimensione più alta in cui tutto è bellezza la musica per me è sempre stata espressione di armonia e io cerco l'armonia in ogni cosa che faccio che vivo che sento quando scelgo un aperitivo scelgo l'unico che mi consente di vivere l'armonia tra tradizione e modernità tra gusto e piacere la musica per me la musica per me la musica per me eccoci qua ancora in diretta partiamo parliamo con l'amico Paolo Cucchiarelli allora Paolo partiamo dall'inizio quali elementi fanno supporre presenze straniere il giorno del rapimento che ricordiamo fu il 16 marzo 1978 in via Fani perché di solito i depistaggi in Italia vengono utilizzati per eliminare la presenza straniera perché l'Italia non ha la forza di fare i conti con queste presenze gli elementi tecnici sono infiniti sono tantissimi dal fatto che i quattro terroristi che hanno brigadisti che dicono di aver sparato non possono aver sviluppato quella capacità che si è dispiegata in via Fani perché hanno tutti quanti dichiarato di aver interrotto rapidamente la loro azione per motivi tecnici chi si è inceppato il mitra chi è stato colpito dal momento emotivamente non c'è coerenza fra quello che loro raccontano e quello che loro hanno realizzato ma questo sarebbe diciamo poco non c'è chiarezza sui punti da cui si spara non c'è chiarezza su quanti erano effettivamente non c'è chiarezza sugli uomini che hanno aiutato non c'è chiarezza neanche sulla dinamica reale della della fuga di Via Fani diciamo che ci sono due inchieste aperte a Roma una si intitola terze presenze in Via Fani e non è un caso è un elemento su cui si sta indagando e su cui spero di poter tornare più avanti con un prossimo libro tutto io non non uso documenti segreti non uso ho semplicemente usato le carte ufficiali le fotografie ufficiali i documenti che tutti possono consultare nelle mille pagine che ho scritto in questi due volumi non c'è una sola riga che è coperta da una forma di segreto nulla so per certo per aver lavorato molti anni in Parlamento che quello su cui la commissione Moro si è fermata la seconda commissione Moro che ha concluso i suoi lavori nel 2017 è semplicemente la presenza degli americani dietro dentro accanto sopra il rapito dell'omicidio Moro ascolti ascolti Paolo cosa succede dopo il rapimento quali sono le novità più clamorose su ciò che è accaduto durante i 55 giorni di prigionia di Moro tutti sapevano tutto mi piace molto perché è effettivamente quello che è accaduto cioè tutti sapevano molto e c'erano persone che sapevano veramente tutto ma non avevano né la forza né la possibilità né la capacità forse di intervenire perché chi aveva il dominio pieno e contrastato di questa storia era una realtà internazionale molto forte con appoggi interni altrettanto importanti e quindi la capacità di intervenire si è via via sfilacciata fino a rinunsi a niente la novità più grande è la presenza straniera la presenza americana nella prima prigione in via massimi 91 e il libro morte di un presidente è il primo che parla di questa prigione ben prima che ne parli la commissione Moro e poi ci sono altre prigioni perché Moro è stato ottenuto in almeno cinque prigioni che nel film nel docufilm facciamo vedere ma sono riprese dall'inchiesta e quindi chi volesse approfondire può anche vedere i due libri e la questione è semplice c'è stata più volte la possibilità di liberare Moro in alcuni momenti era a un passo e non si è potuto mai concretizzare questa possibilità perché c'era appunto questa presenza che incombeva e condizionava gli italiani non è un caso che per gestire operativamente le indagini le inchieste e le azioni di contrasto dell'omicidio Moro venga chiamato a Roma un esponente del governo americano Steve Piaeznek che aveva la funzione di viceministro del governo americano era un sottosegretario quindi perché gli italiani chiamano un americano a gestire a gestire ad aiutare a capire che cosa si poteva e cosa non si poteva fare questo è il problema di conto senta Paolo per chiudere il nostro collegamento e poi la saluteremo ricorderà quali sono i suoi due libri voi avete intervistato due testimoni eccellenti l'onorevole Claudio Signorile e Monsignor Fabio Fabri entrambi furono protagonisti di trattative con il mondo brigatista per la liberazione del presidente Moro come mai due persone così direttamente coinvolte hanno deciso di parlare oggi come è riuscito a convincerli e qual è l'apporto che hanno dato alla sua ricostruzione allora ho fatto una lunghissima corte a Claudio Signorile che io incrociavo più spesso in Parlamento dove ho lavorato e Signorile ha più volte promesso che avrebbe fatto qualche cosa ma dalle mie domande capiva che non si andava a parare proprio nella ortodossia piena della vicenda Moro però quando sono usciti i libri so che lui ha letto i libri e il passepartout che ha aperto queste due possibilità sono stati proprio i libri perché io ho cercato Signorile ma Don Fabri ha cercato me e ci siamo incrociati in Puglia ci siamo incontrati e da lì è nato un rapporto anche personale di grande stima e di grande rispetto nei suoi confronti e Don Fabri ha accettato di fare un'intervista che dice delle cose molto importanti e molto significative che incidono direttamente sulla vicenda quindi sono stati due libri che hanno aperto queste possibilità con due persone che avevano avuto un ruolo diretto e importante nelle ultime ore della vicenda Moro benissimo io la ringrazio infinitamente la lascio grazie per l'apporto che ha dato beh d'altronde no l'apporto ormai anche con i libri e che ha dato anche l'input a che l'amico Tommaso potesse continuare insieme a lei lasciami dire scusa prima che vada via Paolo io credo che ovviamente Monsignor Fabri e Claudio Signorile abbiano affidato qualcosa che non avevano mai detto a nessuno Monsignor Fabri non c'è più quindi è stato un lascito che hanno fatto proprio non certo a me a Paolo perché sapevano io credo che non avrebbe preso le dichiarazioni e le avrebbe accantonate ma sarebbero state utilizzate nel migliore dei modi e naturalmente io spero sempre ringraziando Paolo che è una persona che stimo moltissimo spero sempre che questo film possa aver servito la sua inchiesta e fatto veramente da ponte anche per andare oltre nella speranza che il lavoro che sta facendo tuttora Paolo su Via Fani possa aprire chissà quali altri casomai più avanti affronteremo anche questo problema se Paolo vorrà Paolo Cucchiarelli vorrà in un prossimo futuro presentare poi con me in queste serate il suo libro intanto facciamo un applauso a Fabio Cucchiarelli e le auguriamo veramente di cuore una buona serata teniamoci in contatto teniamoci in contatto grazie 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 da casa il secondo trailer perché qui le cose incominciano veramente a venire a galla e voi state attenti non cambiate perché non vi conviene non vi conviene altrimenti perdete la verità di questo problema di questo tema che stiamo aspettando tutti da 45 anni mi ricordo quando mi hanno detto è morto moro ero in sala insegnanti avevo il cambio tra un'ora e l'altra siamo in sala insegnanti per salutare e mi ricordo che c'era un liceo scientifico ed era scusate dirlo era un covo di sinistra insomma è la gioia che manifestavano questi colleghi no veramente era infinito io sono rimasto basito triste triste mamma mia è successo dicono in tanti 45 anni fa sì ma loro sono sempre uguali non è che siano cambiati non lo so nel frattempo non lo so allora facciamo una rapida intanto complimenti per questo libro che esce domani facciamo vedere la copertina della nostra ornella eccolo prima prima di cosa scusa era questo il senso del titolo che ciascuno si chiedesse prima di cosa prima di quegli eventi che hanno stravolto e rubato la vita agli italiani e sui quali non consentiremo che la menzogna la faccia ancora da padrona come l'ha fatta nel caso Moro nel caso Falcone fatemi dire nel caso di Pietro perché una delle cose che più mi inquieta è domandarmi senza risposte come abbia fatto un tema per entrare in magistratura noi le verità le cercheremo da lontano anche scomodando i piani alti io comincerò con il prossimo da portella della ginestra non abbiamo paura di niente abbiamo dalla nostra la forza dell'etica dei principi oggi ho avuto notizia che si riapre il caso Pasolini hanno la disponibilità di 3DNA signori qualcosa cambia e per quanto siate giurassici e siate dei delinquenti avete di fronte un muro di gente che non recede e che si chiama gente per bene noi andremo a fondo io in particolare sto stringendo un sodalizio con Minniti per favorire la diffusione soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado di questo capolavoro che ha un solo sinonimo verità ecco i professori che vogliono trasmettere questo basta che scrivano e lo richiedano a questo questo sito che vedete www ripetilo tu che io non ci vedo www.noneuncasomoro.com eccolo e non verbo e senza accento è importante e beh senza accento ovviamente non lo trovano prima di Francesco Carraro facciamo una sintesi di quello che è stato detto con il giornalista perché voi siete faccio più che una sintesi un appello visto che si è parlato delle scuole e l'appello lo faccio rivolgendomi ai ragazzi che in questo momento sicuramente mi stanno ascoltando ci saranno degli studenti delle superiori anche dell'università allora volevo un attimo siccome giustamente dobbiamo anche decifrare al loro beneficio vicende di cui noi siamo stati testimoni io ero piccolo ma comunque me le ricordo i ragazzi che sto parlando non se le possono ricordare in presenza viva perché non c'erano stiamo parlando di questo ragazzi stiamo parlando del fatto che l'esponente politico più importante dell'italia dell'epoca del 1978 presidente del più importante partito italiano che era la democrazia cristiana Aldo Moro il giorno in cui doveva insediarsi un governo che era appoggiato dalla democrazia cristiana e dall'altro grande partito di massa che è il partito comunista viene rapito da terroristi che si chiamano dicono di chiamarsi brigate rosse viene tenuto prigioniero per 55 giorni e poi viene trucidato trovato morto in una Renault 4 rossa voi direte vabbè è una tragedia che purtroppo succede gli uomini politici possono essere uccisi fanno un mestiere pericoloso io vorrei che vi focalizzaste su ciò che aveva detto poco fa anche il collega amico avvocato amato e cioè tutti sapevano tutto cioè stiamo parlando di un omicidio del più importante uomo politico italiano e ci è stato detto da Cucchiarelli da regista Minniti da altri che si sono occupati del tema che tutti si intende molta parte dei vertici delle istituzioni dello Stato sapevano e nulla hanno fatto allora io vi chiedo non pensate che questa sia una storia che grida vendetta e siccome da questa storia è nata quell'Italia e quell'Europa che vi insegnano a scuola il corso di educazione civica dove vi parlano di libertà vi parlano di democrazia vi parlano di Repubblica vi parlano di Unione Europea sappiate che tutte queste cose di cui vi parlano sono nate e sono figlie di questo obrobrio io credo che sia una vicenda così oscura tutti sapevano tutto cioè coloro che rappresentavano i vostri genitori sapevano che l'uomo politico più importante era stato ucciso sapevano dove si trovava sapevano probabilmente anche chi l'avrebbe ucciso questa è la tesi di fondo di questo film allora voi dovete portare queste domande nelle scuole organizzare dei cineforum chiedere ai professori di organizzare delle associazioni oppure anche delle assemblee di istituto occupare le scuole se voi occupate le scuole e chiedete rispondete alle domande che questo documentario visto che ce l'abbiamo in mano pongono voi sapete la verità è possibile che siamo figli di una patria in cui chi ci doveva rappresentare sapeva che l'uomo più importante di quel momento storico colui che rappresentava tutti noi era stato rapito e avrebbe dovuto morire tutti sapevano tutto secondo voi questo è accettabile secondo me no discutetene nell'ora di educazione civica visto che ve la fanno fare bravo avvocato l'altro avvocato tutti sapevano tutti tutto sapevano anche che dietro questa vicenda c'era l'ombra della CIA e degli Stati Uniti guardate questa cosa è talmente evidente anche sulle modalità con cui operava la CIA e gli Stati Uniti che persino Hollywood se ne è occupato io nel 1978 quando è successo il fatto avevo 17 anni pensate in quell'anno partecipai a un cineforum dove proiettarono un film i tre giorni del Condor di Sidney Pollack con uno strepitoso Robert Redford guardate cioè persino Hollywood spiegava come agiva la CIA e io non credo sia stato soltanto un problema politico anzi credo che il movimento politico forse c'era sotto qualcosa di molto più più importante tra l'altro la questione energetica sempre nel 78 79 io avevo 18 anni ci fu un altro evento concomitante l'abbattimento dello Shah Reza Palevi in Iran dietro c'era sempre la manina della CIA degli angloamericani che cosa era accaduto Enrico Mattei che abbiamo già citato aveva fatto presente allo Shah che era veramente indecoroso indegno produrre del petrolio e poi raccattare degli spiccioli dalle sette sorelle o dalle grandi compagnie senza avere la possibilità di controllare e quindi propose una joint venture tra l'Italia e l'Iran una società in cui l'Iran avrebbe avuto il 50% dei proventi come paese produttore e l'Italia e il restante 50% sarebbe stato diviso tra l'Eni e la società iraniana nacque così la Sirip la società italo-iraniana dei petroli cosa che fece imbestialire le sette sorelle e a questo punto è evidente che abbiamo visto che fine ha fatto Mattei e che fine ha fatto lo Shah il sistema è sempre quello chiudo così Vito guardate che non è cambiato niente no non è cambiato niente perché sembra che parliamo di storia e parliamo di storia ma accade anche oggi Seymour Hersh che è un giornalista premio Pulitzer ha rilasciato un'intervista al Berliner Zeitunger in cui ha spiegato che l'attentato del Nord Stream del gasdotto è un attentato che è stato fatto dalla CIA e dagli stati di Biden è uno scoop c'è questo scoop andate a leggere per piacere quell'intervista e lui nell'intervista dice una cosa importantissima Vito che mi ha colpito dice quando qual è il vantaggio politico della CIA parliamo di oggi è che quando un Presidente degli Stati Uniti deve fare qualcosa di poco pulito dall'altra parte dell'oceano basta che vada a braccetto nel giardino delle rose della Casa Bianca che è uno dei luoghi meno intercettabili e progetti una cosa che dall'altra parte dell'oceano colpirà una o più persone e aggiunge un altro elemento Hersh cioè questo questo fatto è il tratto è sempre stato il tratto distintivo della CIA utilizza una parola impronunciabile in tedesco ma dice proprio esattamente questo Allain è una parola di 21 sillabe quindi guardate che non stiamo parlando di una cosa è quello che accade oggi che continua ad accadere ecco perché allora forse il potere vuole evitare che si conoscano la storia perché vuole evitare che si studi la storia perché vuole ridurre la capacità di memoria degli studenti a scuola perché non abbiano una capacità critica di giudizio è questo e ovviamente e chiudo questo scoop di un giornalista premio Pulitzer è stato bollato come una fake news quindi noi viviamo un clima molto strano amici che ci ascoltate a casa dove un premio Nobel come il professor Montagnier viene definito un rimbambito un vecchio rimbambito esatto e un premio Pulitzer giornalista premio Pulitzer come Hersh un bufalaro viviamo malatempo raccurrunt ecco ecco allora facciamo una cosa siccome devo far vedere un secondo trailer cosa facciamo adesso Giuliano mandiamo in onda la pubblicità e poi non ci fermiamo più fino alle ore 22 continuiamo con il nostro dire il tempo vola pausa grammo ravia il formaggio della filiera sostenibile bontà e convenienza piacere irresistibile formaggio grammo ravia da brazzale due secoli di tradizione noi di solo natura crediamo fortemente che il benessere e l'equilibrio del nostro organismo si raggiungano attraverso il potere della natura grazie a un team di esperti abbiamo formulato diversi integratori ognuno con un'azione specifica ogni integratore è frutto della selezione di materie prime di alta qualità e completamente naturali senza processi di sintesi per aiutarti a vivere in modo sano rispettando il tuo corpo e la natura scopri di più su www.solonatura.shop ti aspettiamo progettazione rinnovamento soluzione questa è InCodes Group offriamo sempre la qualità e il supporto in ogni esigenza con la massima serietà nel settore edile offriamo consulenze per avviare i vostri progetti ci trovi a Montebelluna o consulta il sito www.incodesgroup.com InCodes Group International Construction Design iscriviti al nostro canale www.incodesgroup.com 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 E allora qui si continua sempre a discutere è positivo questo quindi chiacchierare chiedere fa parte del gioco però io vorrei tornare a parlare di questo argomento a cercare di far conoscere la verità mandando in onda il secondo trailer e poi voglio sentire Tommaso Minniti attore lo dice non essere regista invece per me è stato un grande regista almeno in questo com'è che lo distribuisce fa vedere scusa ecco ecco no perché bisogna porta a porta posta a posta eccolo quindi diamo una mano anche al nostro amico così qualcuno lo potrà promuovere dicendo ai propri professori possiamo vedere o no possiamo vedere questo film so che ci sono alcuni professori da Rimini che mi seguono ecco queste sono cose che si fanno vedere ai ragazzi ti assicuro Vito abbiamo avuto sale di ragazzi liceali di 400 ragazzi in un silenzio religioso per due ore mi sono stupito anch'io perché quando io andavo a vedere il teatro il cinema al liceo buttavamo giù la sala e quindi è qualcosa che i ragazzi capiscono sai perché è importante anche dei ragazzi intorno sul discorso degli studenti non solo sicuramente per il caso Moro in sé giusto che sappiano quello che è accaduto ma perché questo è un detonatore secondo me di coscienza di verità cioè quando l'hanno visto cominceranno a interrogarsi non solo sul caso Moro ma su molti altri casi collaterali precedenti ma io torniamo alla citazione di Anna Arendt verità e politica magari leggeranno anche il saggio di Anna Arendt il rapporto tra verità e politica comunque non è soltanto il professore che magari qualcuno si sta vedendo i talk show che chiacchierano eccetera io parlo anche a voi nonni a voi genitori ecco date l'esempio dite ai vostri figli ai vostri nipoti andiamo a prendere questo filmato guardiamolo e così lo promuovete fra i vostri amici ragazzi fra i vostri compagni a scuola e capirete cose che vi tengono nascoste anche gli stessi professori perché tutto quello che è stato fatto negli ultimi 25 anni 30 anni è uno dei motivi per cui all'epoca io sono scappato dalla scuola non è che non mi piacesse sono fuggito perché non mi ci trovavo più non era più quella scuola in cui io facevo il maestro di vita ecco non mi piace neanche essere chiamato professore quando avevi contatto umano con questi studenti che vale più come lo dai a questi allievi e a questi alunni che trasmettere tutto il campo dello scibile non è importante sapere tanto è come dare ecco dite ai vostri figli prendete questo e fatelo vedere non dico altro secondo trailer dopo gli spari lo stato non è più davanti alla canna dell'arma va dietro e chiamerà il suo crimine un caso ma così non è mi ricordo perfettamente che il santo padre un giorno in uno di questi incontri gli domandò ma io voglio avere una prova che lui è vivo che non ha avuto maltrattamenti che non è ferito è pronto scatto beatissimo padre nella difficilissima situazione nella quale mi trovo e memore della paterna benevolenza che la santità vostra mi ha tante volte dimostrato arredisco rivolgermi alla santità vostra nella speranza che voglia favorire nel modo più opportuno almeno l'avvio di quel processo di scambio di prigionieri politici dal quale potrebbero derivare riflessi positivi per me e la mia disgraziata famiglia c'è salsedire sul colletto del presidente Moro c'è sabbia sulla giacca sul cappotto sul risvolto dei pantaloni sotto le scarpe dentro i pneumatici della R4 dentro la R4 sui parafanghi la sabbia è ovunque i periti accerteranno che è sabbia che proviene da un'area tra focene e fregene Mio carissimo Luca ora il nonno è un po' lontano ma non tanto che non ti stringa idealmente al cuore e ti consideri la cosa più preziosa che la vita gli abbia donato e poi miseramente tolto non era nulla che potesse essere deciso dall'area brigatista le decisioni erano avvenute ed erano state poi eseguite altrove a mio avviso avviene tutto un processo che porta o dovrebbe portare alla riconsegna in quel momento avviene un intervento tangenziale e questo intervento tangenziale uccide e questo E lui capì, mi disse a me, oh Dio, vedendo questa fotografia capisco che l'ha ucciso. Perché era uno che lasciava la sua firma e si vantava di questo. Qualche volta quando si dice il potere, ecco, avevamo il senso che il potere non l'avevamo. Perché se l'avessimo avuto davvero, avremmo davvero trovato il modo di liberare Aldo Moro. È una strategia di manipolazione. Si crea un problema per causare una certa reazione da parte del pubblico, con lo scopo che sia lui il mandante delle misure che si desiderano far accettare. Onorevoli deputati, cittadini, uomini. Fatemi fare una domanda prima a Menniti, poi vengo a te, Avvocato Carraro. Ma non si diceva che lo Stato non poteva trattare con le Brigate Rosse? E dunque trattative ve ne furono e se sì, in che misura poterono incidere nella vicenda e perché si concluse con la morte di Moro? Sì, questa è veramente una vicenda, come diceva l'Avvocato, paradigmatica. Per esempio è paradigmatico il fatto, l'uso della copertura alla ragione di Stato. Come dici tu, si diceva non si tratta con le Brigate Rosse. E questo è appunto il modello della copertura. Cioè esiste in Italia, io penso nelle democrazie, dove si è costretti a dar da bere al popolo che sta decidendo lui, si è costretti a tenere ben divisi i due livelli. Il primo, quello della politica, la recitazione bassa, i gregari. Il secondo, quello della ragione di Stato, ovvero quella selezione vera di obiettivi che lo Stato o il Superstato realizza e che naturalmente come un fiume carsico deve stare sotto il livello, non può emergere. Ovviamente con la vicenda Moro in qualche modo si sono spinti ad un livello tale che qualcosa, 45 anni dopo lo stiamo raccontando, qualcosa è dovuto emergere. Ma questo per dire che il meccanismo è sempre lo stesso, ovvero per coprire gli obiettivi che non possono essere messi alla mercè del popolo, del pubblico, gli obiettivi veri della ragione di Stato, bisogna realizzare una copertura. Questa copertura deve essere sempre astrattamente giusta, astrattamente morale, verosimile. Naturalmente tutto dipende dalla capacità del popolo di capire, il livello culturale, la coscienza. Noi oggi siamo a un livello tale che ci dicono ti voglio avvelenare per il tuo bene e ce lo beviamo. Quindi è un tempo molto difficile, è un tempo in cui è caduta anche la verissimiglianza della copertura. La copertura della ragione di Stato non deve essere più logica, per cui ci stanno facendo bere che la casa andrà via, che la nostra mobilità finirà, per l'ambiente, il green, l'economy, eccetera. Tutto questo è qualcosa di molto attuale, non è qualcosa di 45 anni fa. E allora, a quel tempo, la copertura della ragione di Stato era non si tratta perché non si può trattare con dei criminali, con dei terroristi. In realtà, noi sappiamo che è una copertura perché dal film mostriamo che tutti trattano. Esattamente come tutti sapevano, sappiamo tutto e sappiamo tutti, non è una sintesi mia o di Paolo, è Tina Anselmi che lo dice in un'intervista, con un sorriso amaro, sappiamo tutto e sappiamo tutti. Cosa che se andasse in prima serata, invece di mandare gli sceneggiati che ancora raccontano robe che non sono più potabili. Devo dire che bisognerebbe avere la decenza di andare alle Bahamas in pensione, in certi casi, e smetterla di raccontare le frottole. e quindi diciamo che non si tratta di una copertura perché tutti trattavano. Noi intervistiamo Claudio Signorile che trattava a nome dei socialisti, intervistiamo Monsignor Fabri che era l'assistente di Don Curioni che trattava in nome per conto del Papa la malavita, la camorra, l'andrangheta, la mafia, si propongono perché dicono volete Moro? Noi sappiamo dov'è. Dov'è in via Gradoli. Chi lo sa? Tutti. Lo volete? No, non lo vogliamo. Perché Moro, vivo, non va più bene a nessuno. Quindi, diciamo, noi sappiamo oggi che lo Stato ha partecipato ad una copertura che non finisce certo con la morte di Moro. Perché Moro è stato ucciso, riucciso, riucciso, riucciso in prima serata. Se qualcosa fa questo docufilm, anche se non è riconosciuto da nessuno, neanche da chi forse dovrebbe riconoscercelo, è aver parlato di Aldo Moro senza ucciderlo, ma anche forse dandogli il giusto ruolo di martire della patria. Fantastico. Voleva aggiungere qualcosa l'avvocato? Era, guarda caso, ti ho letto nel pensiero, proprio su questa faccenda qua interessantissima delle cosiddette coperture, no? E effettivamente coperture ci sono state, ci sono in tutti gli snodi fondamentali della nostra storia. Le coperture sono costituite da delle password, cioè da delle parole d'ordine, che vengono create e veicolate. Dopodiché queste parole hanno un'efficacia straordinaria nell'inibire il pensiero. Faccio un esempio molto banale. nel caso della guerra russo-ucraina la copertura qual è? C'è un aggressore o un aggredito. Quando tu hai creato questo mantra, nessuno più si interroga, perché come ha detto giustamente Tommaso, una cosa etica, buona e giusta, che si sta con l'aggredito e non con l'aggressore. I vaccini. Coloro che non si vaccinano, contagiano e poi fanno morire. Quando hai detto questa copertura, tu improvvisamente hai sedato, messo sotto spirito, 50 milioni di persone. Torniamo indietro. L'11 settembre. L'11 settembre noi, il giorno dopo, sapevamo già che era non solo il nome, il cognome, la carta d'identità, la storia di tutti i 21 terroristi. Dal giorno successivo, chiunque proponeva una visione alternativa, gli veniva... Ma di cosa stai parlando? Hanno già catturato i colpevoli il giorno dopo. Nel caso di Moro, c'è da dire. La copertura è esattamente quella che ha detto Tommaso Miniti e cioè non si tratta con le BR. E mi rivolgo qui ancora ai ragazzi. Pensate a cosa c'è di più logico apparentemente di una frase così. Come si fa a trattare quei criminali? Ma in realtà io vorrei proporre questa pista di riflessione e cioè non solo e non tanto il fatto che tutti trattavano, che pure è vero sotto traccia, però anche vero, aggiungo che per esempio i socialisti trattavano, ma dicevano apertamente erano gli unici socialisti che dicevano bisogna trattare con le BR. La mafia trattava per conto terzi, tutti gli altri, esclusi socialisti, sostenevano questa copertura del fatto che non si tratta. Allora io vi chiedo e chiedo a chi ha vissuto quel periodo storico, ma voi vi rendete conto di quanto intellettualmente povero, culturalmente misero, eticamente censurabile fosse questa frase? Cioè, posso chiederlo a coloro che avevano l'età che avevano in quegli anni, come avete potuto accettare questa affermazione? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che lo Stato non può trattare con i soggetti che hanno rapito il suo leader più rappresentativo? Ma di cosa state parlando? Pochi anni dopo hanno trattato per liberare Ciro Cirillo che era un esponente della democrazia cristiana, nessuno ha detto nulla. e per Moro che è l'esponente più importante del periodo storico anni 70, ma credo probabilmente di tutto il secondo dopoguerra, colui che sta portando l'Italia forse lungo un sentiero che si chiama non del tutto ma in parte sovranità statuale effettiva e tu non tratti con le BR, cioè tu non liberi una brigatista pur di far morire il tuo uomo più rappresentativo. Io trovo che questa copertura perdonami Tommaso ma fosse veramente al livello di quelle sceme che ci siamo bevuti all'epoca dei vaccini e con questo sto affrontando un argomento che prescinde completamente dai mandanti, dagli esecutori, dalle piste occulte che ci sono però anche dando per buono che Moro fosse stato effettivamente rapito dalle BR che non ci fosse la CIA dietro, che non ci fosse l'America ma come avete potuto accettare il fatto che non si potesse trattare per liberare il vostro leader più rappresentativo? Mi piace molto che l'avvocato chiami in causa il pubblico perché è esattamente lì che la ragione di Stato fa confluire la responsabilità finale cioè nascondendo la mano del mandante c'è un articolo che io mostro all'inizio del film mi sembra che sia Audi Repubblico del Corriere a quel tempo si diceva perché la Repubblica viva è necessario che Moro muoia ovvero volete la Repubblica volete salvare la Repubblica da un patteggiamento che non si può fare con i terroristi Moro deve morire ci ricorda qualcosa questa strategia di far baluginare un obiettivo illusorio il popolo va dietro l'obiettivo una volta che non riesce ad afferrarlo perde anche il bene certo in quel caso il bene certo era un padre della patria e Saragat dice accanto al cadavere di Moro c'è il cadavere della Repubblica che non ha saputo difendere se stessa quindi tu fai baluginare un obiettivo cedi in cambio qualcosa di certo e nel momento in cui l'hai ceduta come la tentazione mefistofelica scompare l'obiettivo illusorio esattamente quando ci hanno detto tempo fa vuoi salvare il nonno dammi la tua integrità psicofisica questa è una tecnica che evidentemente la ragione di Stato continua ad usare forse questo della ragione di Stato spiega anche un aspetto perché come abbiamo visto e vi invito davvero a guardare il film I tre giorni del Condor la CIA o l'America usa metodi spicci Mattei l'hanno fatto fuori così come tutte le altre cose perché ne parlavamo prima con l'amico che era perché non fanno fuori Moro subito era più semplice perché devono aspettare 55 giorni mettere in piedi tutta questa pantomima un colpo e via no perché evidentemente c'è una strategia precisa si poteva anche valutare il pericolo di creare un martire bisognava capire se l'opinione pubblica fosse pronta se la politica fosse pronta allora hanno fatto maturare le condizioni in cui ecco perché lo Stato è dietro la canna quando hanno detto va ucciso benissimo è partito il colpo il sicario non poteva sparare prima anche per probabilmente il rischio di creare un martire ecco perché allora si giustifica anche si giustificano anche i 55 giorni e tuttavia lo hanno creato certo certo ma immagina se fosse sarebbe stato molto peggio se non avesse creato le condizioni per cui si arrivava a dire non è la scusa è vero quello che dici l'hanno creato però fino a un certo punto nel senso che il martire è colui che è stato ucciso da un nostro nemico in cui noi riconosciamo l'icona la prefigurazione sotto traccia di tutti i nostri valori più profondi qui non possiamo neanche dire che il popolo italiano ha avuto un martire perché il popolo italiano è stato il colpevole tra virgolette di quello che è successo ha un profondo senso di colpa inconscio secondo me perché comunque tutti hanno accettato che Moro Moro doveva morire perché non si tratta con le BR dopo la morte no no ma sono d'accordo che il fatto che possa essere un martire sono d'accordo ma nello stesso tempo non lo è fino in fondo perché per l'inconscio collettivo del popolo italiano Moro è stata una vittima che purtroppo si è dovuta sacrificare per la ragione e l'hanno accettato perché non si tratta con le BR hai dovuto maturare il non si tratta con le BR e la domanda che non si sono fatti all'epoca è ok d'accordo non si tratta con le BR ma non si tratta neanche se in gioco c'è la vita dell'uomo più importante in Italia e a questo punto sembra quasi ovvia la domanda all'amico Tommaso cioè l'uccisione l'inchiesta demolisce tutto l'impianto processuale di un muro ucciso nel portabagagli della Renault 4 mentre è avvolta nella coperta se tu in breve riesci ad aiutarci a ricostruire gli elementi più importanti che fanno luce sulla vera dinamica della morte e qual è stato l'interesse del potere nel legare la dinamica vera riscontrabile della sparatoria che uccide il presidente si non si è mai visto in 45 anni le scene che noi proponiamo nella seconda parte del film io ho indugiato un po' all'interno nell'abitacolo della Renault 4 non certo per cinismo per mancanza di sensibilità sull'azione dell'uccisione ma perché questa è l'azione forse più clamorosa importante devastante della nostra storia repubblicana e per 45 anni ci sono ancora registi intellettuali che fanno vedere la smitragliata nel portabagagli della Renault 4 allora quali sono le due grandi differenze e perché è importante metterle in luce la verità processuale del memoriale la verità che divulgata da mezzo secolo è quella di brigatisti che tengono in prigione in questo cubicolo di via Montalcini processano Moro lo chiudono nel portabagagli della Renault 4 lo avvolgono in una coperta e sparano in esecuzione di una sentenza di condanna che è qualcosa che ha a che fare con il tribunale popolare con la giustizia sommaria che però in quegli anni un diciamo gente che svolgeva un certo ruolo nell'ambito dell'area rossa che in fondo ha giustiziato un uomo compromesso con il potere ancora oggi ci sono pezzi giornalistici che incensano l'operato seppur violento delle BR perché l'uomo Moro ha avuto quel che si è meritato quindi era ovvio aprire un conno di luce sulla vera dinamica Moro non era nel portabagagli dell'arena 4 Moro era nel sedile dietro perché stava aspettando la liberazione le BR negli ultimi giorni lo consegnano a un professionista del killeraggio per la riconsegna delle due ipotesi finali ovvero quella di un Moro riconsegnato e portato in ospedale per essere così ricondizionato per poter ritornare in libertà o Moro portato in Vaticano si realizza l'ultima ipotesi il personaggio che viene dal Dipartimento di Stato americano Steve Pieznik fa convogliare tutte le trattative in un'unica trattativa ce lo testimoniano Monsignor Fabri e Signorile la trattativa dell'auto del Vaticano che sarebbe arrivata nel garage di cui facciamo nome indirizzo civico e tutto e lo mostriamo coperto ancora oggi da delle pareti opacizzate per non mostrare l'interno nell'atto in cui si sta per realizzare la liberazione avviene un intervento tangenziale esterno Monsignor Fabri adesso lo vediamo in uno spezzone se ce lo mandano dalla regia dirà da dove che determina una morte improvvisa di Moro questa dinamica sentiamo sentiamo sì fammi dire ancora scusa questa dinamica è importantissima perché scoperchia il vero mandante un conto è dire Moro è morto per una giustizia sommaria ma bene o male giusta di combattenti del popolo un conto è dire Moro che era stato liberato dai combattenti del popolo viene in definitiva ucciso perché quello era lo scopo già iniziale solo che come dice l'avvocato bisognava far passare quei giorni che tra l'altro contribuivano a distruggerne anche la figura umana politica ricordiamo la perizia a distanza di Ferracuti che dice no questo è un pazzo questo oramai non bisogna più ascoltarlo posso sentire Don Fabri per favore regia Don Cesare doveva essere a bordo di quell'auto che doveva entrare per andare a prenderlo sì che però contemporaneamente io qui lo ricordo molto bene c'era un pessimismo che Don Cesare aveva non era sicuro è come se avessi una premonizione premonizione sì aveva intuito che forse c'era qualcosa che poteva infilarsi poteva entrare sì perché gli attori erano tanti di questa situazione erano tanti a livello proprio mondiale erano tanti e tra gli americani tra gli inglesi i francesi poi ce n'erano altri i servizi eccetera eccetera tutti hanno voluto correre verso un punto che poi a un certo momento questo punto si è spostato è come se all'ultimo momento fosse arrivato un ordine di scuderia da fuori che ha detto no 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 fatelo fuori subito quest'uomo lei ha parlato mai negli anni successivi con Don Cesare di cosa è accaduto di cosa effettivamente poteva essere accaduto sì questo è lui era convinto che ah c'era anche il KGB dentro lui era convinto che una forza di queste non si sa per quale ragione ha detto no no evitiamo tante eliminiamo la storia questa forza dove la vogliamo collocare oltreoceano l'oceano c'è di destra e c'è di sinistra ma sta oltreoceano sta oltreoceano avete visto era Paolo Paolo che faceva le domande l'abbiamo detto prima quindi interessante molto 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 interessante allora a questo punto mi rivolgo a voi no e chiedo chi vuole risponde il progetto di Moro passo alla storia come me lo ricordo ancora compromesso storico vi ricordate? ora in che cosa consisteva di così tanto pericoloso il concetto di compromesso storico quindi di compartecipazione del partito comunista ad una possibile alternanza con la democrazia cristiana visto che poi anni dopo il partito comunista italiano e poi il partito democratico il PDS e poi DS e poi PD è andato a potere ma è saltato l'olivo è una cosa completamente ah è saltato l'olivo scusa è vero vabbè è una cosa completamente può succedere insomma ma il problema è che non erano quelli di oggi quindi siamo andati io però guardate su questo aspetto ma io non credo che il movente principale sia stato quello perché anche se io credo perdonami se ti interrompo fosse andato al governo l'Italia non sarebbe entrata nei paesi dell'est l'ialta non si sarebbe messa in discussione non era neanche interesse della Russia rimettere in discussione la cortina di ferro io credo che l'affrancamento dell'Italia della questione energetica e le 500 lire siano non dico il fattore principale ma abbiano determinato e lo Shah è stato buttato giù per quello anche il discorso di Mattei certamente però non enfatizziamo troppo perché non credo che l'ingresso del PC avrebbe determinato uno sconvolgimento della cortina di ferro nell'Italia sarebbe entrata nei paesi dell'est e ripeto la Russia non aveva neanche interesse a rimettere in discussione l'ialta perché quello sarebbe stato un precedente che avrebbe poi consentito all'America di dire infatti c'era il KGB infatti perché c'era il KGB cioè se l'Italia passa con l'est allora ridiscutiamo l'ialta ma allora nessuno aveva interesse a quello e poi era sì era anche l'eurocomunismo cioè avevano preso le distanze dell'Unione Sovietica cioè non è tanto l'aspetto o solamente quello certo sono stati diversi fattori io non sottovaluterei il fattore per cui l'America ha sempre fatto pasticci ricordiamo che dopo lo Shah sono arrivati gli Atollah dopo Saddam Hussein è arrivato quello che è arrivato dopo Gheddafi è arrivato quello che è arrivato l'America è bravissima a fare queste operazioni dopo non gestisce quello che accade sì però noi non dimentichiamo che l'America esce in quegli anni da una cultura profondamente meccartista e che quindi l'ipotesi che Moro imbarcasse i comunisti che erano ancora qualcosa di credibile al governo era qualcosa che disturbava fortemente l'asse anglo-americano non ce lo dimentichiamo il demone ma il potere delle sette sorelle come quello del Binderman oggi è sempre un potere forse molto più forte della politica ma non c'è dubbio alcuno era ancora nell'idealismo però posso dire secondo me non era tanto allora indubbiamente è vero quello che dice Ornella prima non possiamo paragonare i PC di allora all'ulivo al PD anzi potrei dire che soprattutto dai PD in poi stiamo parlando di un partito che è quanto più distante dalla tradizione da cui dice di venire anzi è l'essenza stessa del partito ultraliberista radicale di massa non c'entra nulla con la storia lo dico anche a beneficio i ragazzi che ci ascoltano che pensano andando magari con il PD di andare a sinistra non state andando a sinistra state andando a destra verso una certa destra ma a prescindere da questo secondo me all'epoca negli anni 70 non è che facesse paura cioè apparentemente ci dicevano mamma mia se i comunisti entrano al governo quel fatidico 16 marzo succede il 48 allora vuol dire che l'Italia va con l'Unione Sovietica quindi gli americani si arrabbino questa era la volgarizzazione della questione ma secondo me in questo concordo con il collega non ci credeva nessuno cioè non era tanto il pericolo che l'Italia entrasse nel patto di Varsavia anche perché il PD comunista si era smarcato da tempo dal PQS dell'Unione Sovietica era un altro fatto che per la prima volta si rischiava seriamente che in forza di un'alleanza stretta tra due grandissimi partiti di massa l'Italia uscisse e dalla sfera di influenza della Unione Sovietica e dalla sfera di influenza degli Stati Uniti d'America operando operando magicamente un ritorno del nostro paese dello stivale a quella sovranità che avevamo sicuramente perduto con l'armistizio di Cassiglia tra settembre 1943 e che non avevamo più recuperato e che ritenevano non avremmo più recuperato ma voi pensate a cosa sarebbe stato un governo improvvisamente propiziato da Moro dove convergeva il 70% dei partiti diciamo così di coloro che rappresentavano in quel momento il popolo italiano che erano il PC e l'ADC era un esperimento intelligentissimo e sottile quello di Moro che spaventava troppo e soprattutto che sparigliava troppo le carte soprattutto che faceva smettere all'Italia di essere quella pelle di leopardo sopra la quale tutti avevano postato i loro piedi negli anni precedenti tanto più tanto più che quel partito comunista aveva un uomo come Berlinguer e non un uomo come Letta tra l'altro qui affondiamo proprio perché in realtà è la stessa del sabotaggio del non stream cioè il sabotaggio del non stream è il fatto che l'Europa non esca dalla sfera di influenza statunitense quindi che in qualche modo non eserciti la propria sovranità in modo eccessivo siamo sempre vassalli del dopoguerra tra l'altro Moro sarebbe probabilmente diventato presidente della Repubblica tranquillamente quindi un Moro presidente della Repubblica con un partito comunista che avesse partecipato a spezzare questo gesso che gli alta determina cioè la DC voce degli Stati Uniti il PC voce dell'Unione Sovietica e quindi un dialogo che avesse portato a compiutezza la democrazia avrebbe come ci dice Signorile portato l'Italia in una strada verso l'indipendenza rispetto alla geopolitica dopo di che diciamo l'intelligenza della strategia geopolitica è sempre raffinatissima in Italia come diceva Ornella Mariani abbiamo avuto Di Pietro abbiamo avuto mani pulite allora quando si parla DPC poi PD PDS DS parliamo di una strategia molto chiara attraverso la quale il mandante prende il buono della situazione il partito comunista che però ha tradito Moro ricordiamocelo Berlinguer tradisce Moro come Cossiga che era il suo figlioccio politico eccetera eccetera quindi prende questi buoni quelli dal grembiule rosso con cui hanno potuto fare indisturbati macelleria macelleria sociale manipulite azzeramento di quella classe politica totalmente guarda caso viene il teorema non poteva non sapere non vale per Greganti e per il partito comunista i cosiddetti buoni assolveranno ad un nuovo ruolo dopo gli anni 90 il ruolo che oggi stanno compiendo perfettamente di garante e io direi uscendo dal gioco politico perché poi la strategia della geopolitica non prevede solo le bagatelle politiche per le quali ci tengono incollati alla televisione ma prevede dei mutamenti antropologici dei quali il PD oggi è assolutamente matrigna se noi vediamo chi stanno portando alla luce ed eleggendo capiamo che stanno proponendo dei modelli la Serracchiani che incensa Sanremo la Serracchiani sta dicendo che quel tipo di intelletto che è lo stesso che copre per 45 anni il delitto moro l'intelletto che modifica il paradigma antropologico umano che pubblicizza una nuova umanità ecco questo è stato affidato al PCPD PDS DSPD pazzesco scusa Tomaso scusa Vito prima sbaglio o in un fotogramma del trailer che è stato mostrato c'erano le 500 vogliamo dire le due parole se vuoi lo dico in due parole vuoi arrivare a Draghi eccolo là eccolo là spiego perché spiego perché allora i famosi biglietti di Stato no? quelli sono i famosi biglietti di Stato le statonotte che sono stati introdotti ovviamente i biglietti di Stato sono una cosa radicalmente diversa dalle banconotte perché le banconotte sono una moneta bancocentrica che è garantita da una banca centrale a fronte dell'emissione di titoli e debito pubblico dello Stato il biglietto di Stato è l'esercizio d'emble della sovranità monetaria da parte dello Stato del Ministero del Tesoro che emette direttamente stampo le banconotte la prima serie anzi la prima legge che fa questa cosa qui è di Aldo Moro ma non è del 78 è una legge del 1966 31 marzo 1966 legge 171 viene stabilito che lo Stato può stampare banconotte dopodiché fanno tre serie una si chiama Mercurio una si chiama Retusa una viene fatta nel 66 una nel 67 una nel 74 con dei decreti perché lo dico perché credo di poter dire Tommaso correggimi se sbaglio se c'è quell'immagine è un sottinteso della serie guardate che forse anche questo ha contato in questa vicenda io non so non ho nessun elemento per poterlo dire quel che è certo e che dico da giurista è che quella legge sapete quanto è stata in vigore in Italia è stata in vigore tanti anni anche molto dopo l'omicidio Moro anche se non l'hanno più usata ma fino a tutti gli anni 90 e per la precisione fino al 10 marzo del 1998 quella legge c'era solo che non la usava nessuno e il 10 marzo 1998 con un decreto legislativo numero 43 è stata abrogata guarda caso in vista dell'entrata in vigore dell'euro pazzesco diciamo così un aspetto della vicenda che merita di essere ecco come si spiega l'altra cosa che io non riesco a capacitarmi è come una verità come è venuta fuori come sta venendo fuori questa sera così manifesta non sia stata fatta vedere in una televisione di Stato per raccontare ai milioni di italiani qual è la verità ci voleva un povero misero insegnante in pensione cogliere il il cosa dice come va il passaggio della Sabrina convocare Minniti e dire e no e dire signori la verità è questa perché è stato tacciuto per 45 anni qualcuno potrà dire ma chi vi ha detto che questa è la verità ci sono prove tangenti ma ti dirò di più scusa Vito c'è un libro scritto dal giudice istruttore imposimato il giudice istruttore che si è occupato del caso Moro che nel suo libro i 55 giorni che sconvolsero cambiarono l'Italia scrive nero su bianco quello che abbiamo detto sapevano tutti cioè l'ha detto il giudice che ha indagato quindi è un segreto di Pulcinella la verità non è tanto che non è stato detto è che non se ne dare risalto no perché ti meravigli Vito perché è quello che tu stai facendo da anni cioè è il compito del bambino il piccolo bambino del racconto di Anderson i vestiti nuovi dell'imperatore che grida il re è nudo cioè è semplice tutti fanno finta di non vedere ma basta che un bambino dica è qui piccolo dica guardate che il re è nudo la verità viene fuori ma d'altra parte come potevi aspettarti che le televisioni di Stato amplificassero un discorso del genere quando la stampa mainstream è asservita a questo potere e continua e continua beh guarda il caso di Ersche li hanno comprati tutti scusa Ersche anche se perdonami in queste ore qualcuno prova a riposizionarsi e vediamo quanto è vero o quanto sia strumentale ma se la televisione italiana oggi consente a gente come Barbara D'Urso o come Amadeus di subornare il grande pubblico ma di cosa parliamo voi adesso facendo una piccolissima divagazione ma voi vi rendete conto delle oscenità alle quali non io certamente ma l'Italia ha assistito pagando parte degli italiani certo un canone televisivo voglio dire la politica in Italia la politica dietro le quinte quella di quelli che ammazzano gente come Moro sappiamo chi la fa poi ci sono i servi di regime e la politica spicciola che deve arrivare alla gente è in mano a persone come Cecchi Paone che è diventato anche virologo come Pupo uno che ha 80 anni quasi si fa ancora chiamare Pupo allora vi rendete conto il disegno è questo io sono tre anni che non accendo la televisione perché per una persona che sia dotata di buon senso la televisione italiana di Stato è insultante ma scusate torniamo sempre alla citazione del primo fotogramma che è a Nardi verità e politica il discorso del mezzogno guarda che sta succedendo che adesso Ersch ha fatto uno scoop sulla questione del nostro impressionante spiega addirittura che Biden ha spostato da giugno a settembre spiega come hanno fatto saltare con quale tecniche sono stati fatti sabotare cioè si potrebbe fare un docufilm su quella vicenda tranquillamente c'è un aspetto lì che viene ripreso e anche nel tuo docufilm cioè si fa vedere in realtà il grado di partecipazione a questa cosa è vero tutti sapevano tutti molti hanno anche partecipato a questa vicenda ma con gradi livelli con livelli diversi per esempio Ersch dice che molti di quelli che hanno accettato di fare questa schifezza l'hanno fatto con la buona fede di pensare che questo avrebbe accelerato le trattative di pace non darò mai la buona fede a Romano Prodi no no certo certamente comunque ragazzi mi chiedono anche che cos'è da fare Gladio mi stanno chiedendo per spiegarlo agli amici telespettatori che stanno seguendo con tanta attenzione questa trasmissione non tutti ovviamente perché tanti altri ripeto guardano il cia 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 il ballo se riusciamo a spiegarlo in un minuto in un minuto non tanto che cosa prego prego riuscite o no Gladio è praticamente stay behind cioè era un progetto di difesa della Repubblica Italiana contro il pericolo che in Italia i comunisti andassero al potere e quindi avevano istruito creato formato diffuso sul territorio nazionale delle cellule che sarebbero dovute entrare in funzione nel momento in cui per qualsiasi motivo i comunisti fossero al potere tra l'altro Cossiga che è stato uno dei protagonisti di quella stagione di cui stiamo parlando ne ha parlato ampiamente del fatto di Gladio poi venne sdoganata mi pare alla fine degli anni 90 a metà degli anni 90 dallo stesso Cossiga c'è anche da dire scusami che poi però non è stata mai utilizzata perché alla fin fine le alternative sono o si mena il colpo forte il fendente forte oppure utilizziamo che cosa quello di cui parlavate la copertura intellettuale non è una cosa da poco la copertura intellettuale è l'aspetto che fa da coda a ogni evento e permette che quell'evento rimanga sotterrato e se qualcosa emerge negli anni successivi dovrà essere affossato quindi quando si dice quelle trasmissioni ma non sono aspetti di costume perché chi mi dice io guardo Sanremo guardo forum perché ci sono dei casi no quella è una riscrittura dell'umanità è una riscrittura dei modi dei costumi e se tu guardi per esempio così uno scorcio di trasmissione di questo genere quando un politico va per esempio non facciamo nomi dalla Palombelli tu vedi esattamente che quel politico è a un livello sotto la Palombelli la Palombelli è sopra e lui è sotto perché il politico ha un mandato che non conta più nulla che è quello del popolo gli uomini del mainstream hanno un mandato molto più diretto sì sì hanno il mandato di garanti del messaggio che deve quindi non si può più parlare di politica senza dire che senza la copertura intellettuale anche nella vicenda Moro dove ancora si fanno serie film dove si uccide Moro l'ultima cosa che ho visto dolorosa io penso per quanto possa essere dolorosa per la famiglia aver messo in bocca Moro nell'ultimo film le parole allora noi facciamo parlare Moro solamente con le parole delle sue lettere tranne che nel finale in cui facciamo un discorso all'umanità di oggi che è palesemente post mortem in certi film si è fatta una cosa che oltre ad aver ucciso Moro psicologicamente moralmente come uomo politico addirittura si è ucciso il Moro spirituale cioè si mettono in bocca a Moro parole di una lettera trafugate da una lettera messe in bocca durante una confessione in cui si dice ma sì l'aldilà il paradiso io voglio vivere allora non era questo Aldo Moro semplicemente assolutamente Moro lascia delle parole scritte nelle sue lettere molto precise molto taglienti e soprattutto lascia il sangue in un Arena 4 quel sangue versato per la Repubblica Italiana è ancora lì ancora non si è asciugato e quindi ha voglia la copertura intellettuale a ucciderlo e a riusciderlo non ci riusciranno perché il sangue di Moro in quell'Arena 4 è molto più forte di una serie di una fiction è un testimone quel sangue abbiamo 8 minuti da dedicare ancora a questa trasmissione ma io voglio fare ancora qualche altra domanda a voi e poi una rapidamente a te avvocato attraverso il recupero della memoria cosa è possibile ancora salvare per delle generazioni a venire mi ha colpito un aggettivo che ha usato adesso Tommaso che è spirituale che improvvisamente viene calato in questa trasmissione però ha un grande senso forse è stato evocato da noi inconsciamente non lo so perché dico questo perché l'avvocato prima faceva notare questo fatto ma se vogliono eliminare Moro perché vuol fare il compromesso storico un colpo e via il 16 marzo l'ha ammazzato insieme ai 5 ai 5 della scorta è finito tutto dopodiché invece rimane per 55 giorni in prigionia e una delle ipotesi che io ne parlavo prima giudico ragionevole è il fatto che si volesse testare le reazioni ma ce n'è un'altra secondo me su cui dobbiamo soffermarci prima è stato detto che agli italiani venne comunicato il messaggio volete liberare Moro e la risposta fu come con Cristo e Barabba fu come con Cristo e Barabba no perché non si tratta con le BR è stato tirato in ballo il termine sacrificio cioè io ho l'impressione che in tutta sta vicenda ci sia qualcosa di profondamente pagano e quando parlo di sacrificio evidentemente faccio riferimento a una caratteristica fondamentale di tutte le società antiche sacrificare qualcuno di importante a qualcosa di altrettanto importante in vista di un progetto importantissimo ecco secondo me in qualche modo in qualche forma ho la sensazione che tutta questa vicenda dipanatasi per più di un mese e mezzo che ha convogliato le emozioni gli interessi la mente degli italiani su questa tragedia giorno e notte 24 ore al giorno creando una massa psichica enorme di tensioni che poi si sono sciolte con la morte del povero Aldo Mora ecco tutto questo abbia rappresentato un vero e proprio sacrificio a che cosa alla nascita dell'Italia che poi nel 1981 avrebbe avuto il divorzio con la Banca d'Italia nel 1992 avrebbe avuto Maastricht nel 99 sarebbe entrata nel 2001 sarebbe entrata nell'Euro e fino ad arrivare al trattato di Lisbona nel 2007 a quello che siamo ridotti oggi va bene vi avevo chiesto un'altra cosa comunque non importa guarda io sottoscrivo veramente ogni lettera che è stata pronunciata dall'avvocato due cose dico perché sono le cose che io vado a dire nelle scuole nelle scuole quando porti una cosa del genere non puoi far politica perché giustamente non è il tuo però due cose si possono dire primo dobbiamo riportare alla mente che cosa è la grande discrasia fra l'Alta e l'Articolo 1 della Costituzione l'Italia vive in questa frattura da terremoto cioè ci hanno detto nell'Articolo 1 che noi siamo sovrani e la sovranità appartiene al popolo nel primo capoverso e d'altra parte noi sappiamo perché oggi tutti i saggisti parlano di colonia Italia che il mondo anglo-americano mette le mani dopo l'armistizio dopo la liberazione e l'invasione dell'Italia e quelle mani sono ancora lì quindi due cose vanno recuperate capire chi ha tentato in fondo Moro forse ha tentato di ricucire i lembi di quella ferita tra l'Articolo 1 e gli Alta come se l'Articolo 1 fosse solo una norma programmatica della Costituzione che ancora non si era realizzata due cose credo che il recupero da fare oggi e che Moro e io tento nel film di richiamarlo con un finale che vola un pochino più alto è il recupero spirituale è il recupero spirituale perché il sacrificio può essere anche laico ma quando si versa il sangue per la verità noi possiamo anche allungare le braccia della V di verità perché la verità la verità somma è una verità che si realizza attraverso la sofferenza è sempre questo fammi dire perché Moro rappresentava anche tutto quello ecco il termine spirituale tutto quello cui intendono disavvezzarci e quindi spiritualità confessione Moro era profondamente cristiano Moro era profondamente padre Moro era profondamente marito e quindi tutto questo indecente showdown al quale assistiamo non si sarebbe verificato non diventerai mai segretaria del PD ma pensate ma almeno non ho le orecchie che ha lei ho delle orecchie bellissime guarda che era profondamente anche nonno allora Moro sì certo ma avete fatto segno di stringere sì perché mancano due minuti c'è una domanda molto importante che voglio fare a Gianfranco cioè dopo l'uccisione di Moro 9 maggio 78 il 22 78 sempre è stata approvata la famosa legge sull'aborto ti ricordi? ecco che collegamento si può immaginare se c'è tra la fine della politica morotea e la promulgazione della legge 194 che introduce l'aborto in Italia oh guarda questa è una domanda che sicuramente in due minuti è impossibile anzi andrebbe dedicata a una trasmissione facciamola perché inizia lo spartiacque antropologico da quel momento quando attraverso la legge dell'aborto l'essere umano si considera semplicemente un prodotto inizia quel processo culturale di reificazione dell'uomo che poi porterà addirittura alla procreazione artificiale che è sempre di quel periodo lì e tutto il resto fino alla vergogna della barbara pratica dell'utero in affitto che noi stiamo facendo qua questo meriterebbe assolutamente una abominibile su questo promesso lo faremo per chiudere Tommaso a parte che sono contentissima adesso non so se ti chiameranno le tv di stato perché sicuramente ci hanno visto credimi siamo visti anche dai politici a Roma questa televisione è seguitissima si me ne sono accorto perché sotto la lapide in via Caetani dove noi abbiamo parcheggiato l'arena 4 e abbiamo potuto girare la scena del rilascio del corpo di Moro adesso dopo 45 anni hanno messo dei pioli di cemento quindi non la potrei più girare forse qualcuno veramente si è accorto di quello che abbiamo fatto ecco allora questo film tra l'altro è un ponte molto forte che lega quel mondo conflittuale degli anni 70 che noi abbiamo vissuto un po' tutti ai frutti che oggi raccogliamo allora dici come possiamo aiutare questo film a superare la soglia critica del silenzio di stato hai due minuti per dirlo se ce la fai lo stiamo già facendo cioè fare il passo lungo per la nostra gamba umana non abbiamo distribuzioni non le abbiamo volute questo non è un prodotto che nasce così ma è un'opera che si veramente ripromette di bucare la membrana non solo dell'ipocrisia ma anche del luogo comune il luogo comune è il luogo più violento che possa esistere al mondo per cui non lo abbiamo frequentato neanche questa sera questo film non si presta a banalità e a così banalizzazioni io ripeto noi lo stiamo distribuendo con questo ma finalmente sembra che riusciamo a entrare in qualche sala io mi presto sempre a un dibattito finale perché capisco che il rapporto umano che questo essere piccoli ci permette è quasi ancora più forte del film cioè il pubblico che capisce oggi che la politica si fa recitando e ce lo dice anche Draghi io sono fuori ormai dalla recita politica io che ho vissuto in teatro 25 anni capisco che devo intessere un rapporto personale privato con chi guarda questo film perché in fondo come diceva l'avvocato noi se questo tempo ha mandato un signor nessuno come me a parlare di questa vicenda che io non conoscevo io ero un bambino di 5 anni vuol dire che la nostra coscienza collettiva ha ancora una piccola macchietta nera ce l'hanno affibbiata i mandanti perché noi potessimo non interessarci di questa vicenda proprio sentendoci colpevoli è come chi fa peccato che non va a confessarsi perché ha paura di superare il peccato noi dobbiamo confessarci probabilmente davanti a questo film per chi vuol farlo davanti a un sacerdote per superare questo limite che determina la nostra ipocrisia e determinerà la nostra condanna facciamo un applauso grazie a voi grazie a voi Tommaso Minniti grazie 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 veramente a voi tutti perché avete creato io credo una trasmissione straordinaria avevi ragione tu che sarebbe stata straordinaria avevo ragione o no che sarebbe stata straordinaria e comunque io sarebbe stata eccezionale eccezionale io cerco di proporre ai nostri amici che sono a casa trasmissioni vere trasmissioni fammi dire che di eccezionale c'è stata la nostra capacità di restituire alla memoria un grande uomo applausi anche per lei veramente brava signori se volete ecco non così diciamo impegnativi discorsi come questa sera ma venerdì prossimo parleremo di una cosa più leggera ma seguitemi sempre perché ci vuole la cosa diciamo profonda la cosa anche più leggera seguitemi sempre vi auguro veramente una buona notte e una buona saluta a tutti grazie alla faccia di tutta questa burocrazia che ti sembra di stare in un reality show torneremo l'Italia delle lettere che mia mamma scriveva per parlare con me torneremo Italia Italia torneremo l'Italia torneremo l'Italia dei nonni e le nonne che hanno dato la vita per noi anni fa combattevano in guerra e intanto si amavano e intanto ci davano la libertà ridaremo anche a loro un po' di verità ridaremo anche a loro dignità torneremo Italia 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 Torneremo l'Italia Italia Torneremo l'Italia Italia Italia Torneremo 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 l'Italia Torneremo l'Italia Torneremo l'Italia Torneremo l'Italia Torneremo l'Italia